Oltre al mio percorso personale, Stagioni di Passioni 2 nasce insieme al professore Ciposito, dove noi vogliamo indicare una strada per i detenuti, per il reinserimento sociale, per la formazione al lavoro e per il reintegro sociale. Noi abbiamo un progetto. Che tipo di progetto? Abbiamo un progetto che abbiamo fatto insieme al professore Ciposito e praticamente vogliamo portare i detenuti all'esterno, costruire una rete reale, vera, di collaborazione tra gli operatori del carcere e gli operatori del comune, gli assistenti sociali, in modo che l'assistente sociale ha una realtà del proprio cittadino detenuto, in modo che quando esce già sa le problematiche e quindi sa le caratteristiche e i percorsi fatti interni, quindi lo può inserire più facilmente. Noi vogliamo creare questa rete e diciamo anche che il detenuto prima di uscire deve fare un percorso di informazione, però esterna. La nostra idea è questa, con l'associazione di volontariato andare a prendere i detenuti all'istituto in modo da non impegnare la polizia per indenziare perché sarebbe dispendioso, portarli sul posto in un'associazione, fagli fare del volontariato, in modo che il volontariato gli fa avere quell'empatia con la sofferenza e quindi capire anche le problematiche sociali delle persone sbandaggiate. In più fare formazione presso un istituto, formazione spendibile però, tipo una qualifica OSA o altre qualifiche che le possono inserire realmente. La differenza dove sta? Perché questi corsi si potrebbero fare anche internamente, però internamente al carcere cosa succede? Succede che il detenuto non si inserisce, rimane sempre all'interno, invece all'esterno già prende, diciamo che fa un percorso già di inserimento e anche di proposta lavorativa. In più ci deve essere il comune, cioè questi ragazzi che escono dal carcere fanno delle ore in associazione, delle ore di formazione in istituto, ore di volontariato e altre ore le dedicano invece alla cittadinanza con lavori esterni, giardinaggio, polizia strade e qualsiasi altra cosa insomma sia utile al comune. Questa è la nostra idea di inserimento del detenuto prima del fine pena, perché se si arriva a fine pena il detenuto viene abbandonato, cioè praticamente arriva e esce dal carcere, magari si presenta all'assistente sociale del comune, l'assistente sociale del comune gli dice vabbè meglio cosa posso fare, mica c'ho il lavoro, mica faccio l'ufficio collocamento, insomma le solite risposte che poi una persona rimane abbandonata a se stessa e a chi si rivolge all'amico, all'amico di sempre, cioè c'è la reiterazione del reato. Questa è la situazione. Il progetto di recupero e di rilancio che mette insieme carcere e volontariato. Allora, come già ha illustrato Ugo, questo progetto è un progetto innovativo in quanto si parla di riabilitazione, ma una riabilitazione all'esterno, attraverso una serie di azioni da fare sul territorio. Questo va fatto attraverso, prima di tutto, un'osservazione che verrà fatta in carcere, quando riguarda coloro i quali sono i doni per poter fare un percorso del genere. Dopodiché, attraverso delle associazioni, anche del volontariato, fare un percorso di crescita personale per coloro i quali sono a fine reo, sia sulle educazione alla legalità, ma anche alla formazione, attraverso un percorso anche di counseling e di relazioni di aiuto sulla comunicazione, per poi eventualmente anche fare la parte sulla formazione professionale. Perché uno degli aspetti più importanti per coloro i quali vivono questa situazione di disagio è che la maggior parte ha un tasso di scolarizzazione bassissimo e non hanno una qualifica professionale. Il fatto di fargli fare la formazione all'esterno e fargli conseguire una qualifica professionale gli permette poi inserimento all'interno di cooperative sociali o di strutture in rete sul territorio. Certo, sono azioni da fare in rete attraverso i servizi degli assistenti sociali, con i comuni, con gli enti, con il carcere, con le cooperative sociali, associazioni di volontariato. È un qualcosa che noi abbiamo sperimentato comunque rispetto a tutta una serie di azioni anche di vari sportelli sociali dove abbiamo anche seguito altre persone ed è un'azione di successo. Nel senso che è un discorso di buona pratica, è fattibile ed è anche realizzabile ed è l'unica strada. Perché immaginate che all'interno del carcere, quando io ho insegnato anche all'interno del carcere, molto spesso gli educatori sono pochissimi e ci troviamo con una popolazione di 400-500 detenuti, tra cui anche un solo psicologo e non può sicuramente seguire il tutto. Poi c'è un altro problema, c'è uno scollamento tra il territorio, i servizi sociali del comune rispetto alla popolazione anche detenuta e quindi può capitare che un detenuto dopo un certo periodo di anni ritorna nel proprio comune e tra l'altro i servizi sociali del suo comune non sono a conoscenza. Diciamo di questa persona, delle sue problematiche. Quindi costruire un progetto di reinsedimento. O meglio, per il reinsedimento dei detenuti che passa attraverso il coinvolgimento attivo della società. Da legale come vede queste idee? Chiaramente da legale non posso che approvare perché sostanzialmente da legale ritengo che il problema più grave per i detenuti non è certo il sovraffollamento che è l'unico problema che sembra attanagliare, secondo l'opinione pubblica e le strutture amministrative penitenziarie, i detenuti. Ma sostanzialmente il problema dei detenuti è ben alto. Un detenuto fa un percorso di assistenza all'interno del carcere, un percorso che non deve assolutamente spezzarsi ma che deve continuare necessariamente all'esterno onde prevenire la reiterazione. In effetti si è dimostrato che quando il detenuto ha un passaggio assistenziale anche all'esterno della struttura carceraria si riduce di gran lunga, circa il 60%, quella che è la reiterazione del reato da parte di chi stessi. Per cui credo che il discorso di assistenzialismo deve essere necessariamente migliorato e abbastanza. Per dirsi il tuo convegno, in particolare all'avvocato da Rosario Verde che ha voluto io partecipassi e grazie veramente, siamo uniti d'amico di amicizia che stanno nel tempo in cui ero giudici a tribunale di Avellino, quindi c'è un rapporto di stima, di cito e di apprezzamento, so quanto zero profondo nelle sue cause e il suo modo di lavorare. Ringrazio ancora il sindaco per le belle parole che ha speso per me all'inizio di questo nostro incontro. Ringrazio tutti che avete visto in me i termini di confronto nei vostri interventi, quindi non vorrei deludere le vostre attese da questo mio... Prima riferirmi al testo perché qui siamo per la presentazione di questo pregevole libro, dico pregevole perché esso rappresenta la realtà penitenziaria in un divenire, in un progresso di eventi, eventi raccontati in maniera progressiva, ma con molta linearità, con semplicità di contenuti e quindi estremamente agevole, piacevole da leggere e ricco di significati. Dopodiché cercherò di analizzare brevemente, dato la rispettenza dei tempi dell'incontro, sono le tematiche e le problematiche che Hugo de Santis solleva nel suo testo relativamente alla sua detenzione, quelle che poi ha anche esternato nel suo intervento di poco fa, sperando di dare le risposte a pagare, insomma, non abbia le commesse se l'ordinamento non consente certe cose. Dunque, allora dicevo, anzitutto ho apprezzato moltissimo la parte iniziale del testo, sono circa una trentina di pagine, del professore Emilio Esposito più presente, coautore del libro, che si divide a sua volta in tre parti. Una parte iniziale è sul volontariato, cioè gli spiega con parole semplici ed efficaci che cosa consista il volontariato, facendoci riflettere su espressioni che spesso consideriamo di routine semplicistiche, ma che tali non sono, tipo per esempio che il volontariato è la spendita del proprio tempo per altri, in maniera gratuita e l'altruistica, tale da consentire una funzione che può essere di triplice portata, egli parla di una funzione educativa del volontariato, che è collegata quindi alla gratuità al donarsi agli altri. si sofferma sulla funzione poi, diciamo, di tipo culturale del volontariato, perché attraverso il volontariato si conoscono meccanismi anche di governo, di strutture, di settore della vita pubblica che altrimenti non sarebbero accessibili al comune cittadino. si sofferma sempre di bilanci, di gestioni, di operazioni anche di tipo amministrativo e di una funzione poi di mediazione sociale del volontariato stesso. Cioè l'autore si sofferma su questo concetto facendo presente che attraverso il volontariato vengono mediate istanze di tipo culturale, sociale, allargate. Perché? Perché il concetto di volontariato non va inteso come un concetto di tipo remediale e riparatorio, cioè di intervento in occasione di un malfunzionamento, di un cattivo servizio, ma di un servizio che viene reso verso una categoria con poi utilità e frittilità da parte di una categoria più ampia e generale. Per esempio, i volontariatori possono fare il risossidio poi accede anche alla utilità della collettività, previene da reati, aiuta alla formazione e quindi chiaramente non è riferita ai singoli appartenenti all'associazione dei volontariati. Oltre al fatto che il professore Esposito parla di un volontariato come una sorta di ramificazione capillare della nostra società, costituita sia dal volontariato individuale che quello che chiunque può compiere, anzi consiglio dell'avventura delitto proprio per dedicarsi a un invito a dedicarsi al volontariato in una maniera spontanea, altruistica e senza di modo di fare qualcosa che possa essere fuori posto o fuori luogo. Perché l'impegno individuale è ben accetto sia nell'ambito sociale che ancora di più in quello penitenziario. E poi ancora egli descrive come un sistema di spiega come funzionano le singole associazioni e come debbono avvenire i singoli interventi. Questa è una prima parte, non mi riconvolutamente l'attuale testo. Abbiamo anche le esperienze di Maurizio Eman, due giovani volontari della solidarietà che racconteranno il loro percorso in motivo all'associazione, ricco di testimonianze. Passiamo anche a dire al Dottore Raffiore che la battaglia di Lugo ha portato anche qualche libro. Alla partecipazione della Dottore e ringrazio anche per l'acuta osservazione rispetto al luogo di Raffiore, che è un aspetto molto importante. In effetti con Lugo questo libro avremmo voluto prendere testimonia un po' un percorso di 4-5 anni. Il progetto vuole essere in effetti un qualcosa di risolutivo ma di applicabile perché l'abbiamo sperimentato. Io ho insegnato anche in carcere e spesso la difficoltà essendoci pochi educatori, un solo psicologo per 4-500 persone, immaginate un po' anche avere dei collocchi e come diceva Dottore il discorso del trattamento. Quindi molto spesso un detenuto per avere già un primo colloquio ne passano dei mesi. E se ci sono problematiche poi di depressione, di difficoltà eccetera eccetera, il sossegno lo trova all'interno, se infortunato, della cellula. Però io ho sperimentato che i ragazzi e le persone che ho insegnato in altra sicurezza, stavo su un corso al ventino, avevano una grande voglia di apprendere ma... Poi chiedono, non mi si chiede. Allora io sarò veramente molto molto rapida. La prima cosa che voglio fare ed è doveroso, voglio ringraziare veramente tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. La prima cosa chiaramente voglio ringraziare il sindaco e la città di Montoro che ha immediatamente insieme con l'assessore Guarimiello accorto questa mia richiesta e quindi di creare questo evento oggi. Chiaramente ringrazio i miei compagni di viaggio che sono Ugo e Emilio. Ringrazio per le parole di stima e di apprezzamento professionale e personale che sia il singolo ma soprattutto il dottore Mario Fiore che io ho voluto fortemente a questa manifestazione per un rapporto veramente di grande stima e poi siamo espressioni insomma anche del territorio montonese per questo evento. D'altronde poi il dottore Mario Fiore voglio dire è un esperto della materia perché noi oggi essendo magistrato di sorveglianza chi ha luce. Il libro di Ugo praticamente intrusa. Ah voglio ringraziare anche Adelina, Cariano, infaticabile, ottima partner dell'organizzazione e quant'altro. Fatta questa fase di ringraziamento io sarò molto 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 rapida. Ugo affronta un problema che io nella mia testa di avvocato penalista insomma vivo quotidianamente e diciamo che io mi colloco un po' a metà. Ci troviamo, io mi trovo a parlare con i miei assistiti i quali bene o male comprendono che sono nell'area di poter godere dei primi benefici come giustamente ha detto il dottore Fiore. I primi benefici che il detenuto può avere sono quindi del permesso premio. Il permesso premio diventa una sorta di anticamara quello che poi sarà il periodo che il detenuto può passare in affidamento esterno come residuo di espiazione pena. Chiaramente la concessione del permesso premio è indicativo di una condotta positiva che il detenuto ha all'interno della struttura carcerale. Ciò che spesso si accompagna al vieno purtroppo di questa possibilità è l'informativa esterna. La famosa informativa esterna intesa sia come tussuto sociale dove il detenuto in realtà deve andare a collocarsi che solitamente dal principio che siccome io sono detenuto ... Stasera ci ha concesso di stare qui, di portare la nostra testimonianza. Io parto come affidato, arrivo alla solidarietà, grazie ad Alfonso Sessa che mi prende in affidamento per un anno. Stavo ai domiciliari però avevo la possibilità di andare l'altro i giorni a settimana. Ai tre giorni sono passato ad andare anche quando non mi toccava stare in associazione perché si era creato un gruppo dove io ero malotente. Finito questo anno, il 15 giugno mattina, io ho la proposta proprio dal presidente e dalla mia responsabile per fare le sposte che mi ha seguito durante tutto il percorso di affidamento dove loro mi hanno regato tanto di indossare questa divisa che adesso porto con tanto onore perché mi sono levato anche delle piccole soddisfazioni di vita, di cuore, dando una mano a chi purtroppo stava per lasciarci la pelle e sono rimasto con loro. E da quel giorno è un anno che io sono un volontario 118 della solidarietà. Questo grazie a loro che io non sapevo neanche di avere questa passione che loro mi hanno fatto nascere. Dove ho aiutato tante persone, dove mi sono trovato a fare emergenze che non erano niente, dove a vedere cose che io fino a qualche anno prima vedevo tramite la televisione. Però questo è solo per dire ai ragazzi che diciamo vanno in affidamento. Sono partito come un manutentore, pittore, idraulico, facevo quello che c'era da fare in associazione. Però vi ripeto, grazie al presidente che qualsiasi cosa io chiedevo, lavorativa, mi veniva concessa. Basta che lo faceva e ho sentito sempre la sua presenza che si sono filato sul collo come un papà, diciamo, e la mia responsabile esposita allo stesso, mi hanno trasformato in un piccolo soccorritore, umile. Questo è tutto. Vi ringrazio e ringrazio. Va bene così. Per comunianza univoca a Stato si unisce a quello che ha detto il suo compagno di percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.